stiamo entrando a torredia 7 gradi c'è, sono le 9 e mezza 8 gradi 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 9 gradi 8 gradi 9 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 gradi Grazie a tutti. 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 qui termina. entriamo su quello di teolo in un'altra parte Grazie a tutti. 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 Come vedete. Stiamo entrando in centro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , grazie a tutti. vi saluto dalla chiesa magica di Teolo guardate che meraviglia tutta in pietra faccia a vista il campanile vedete che meraviglia e la chiesa da questa parte c'è l'orologio vedete che meraviglia con l'orologio vedete la chiesa guardate che meraviglia vedete con gli ugani bello bello dai dai vi mando un abbraccio forte ancora la chiesa davanti vedete anche lì con gli ugani guardate che meraviglia vedete e la chiesa il davanti è una meraviglia vedete ancora questa veduta meravigliosa vedete adesso vi saluto dalla chiesa riprendiamo un attimo il sonale un abbraccio forte a tutti voi amici appassionati che con passione e col cuore mi seguite un grande grazie di cuore a tutti voi per essere super speciali numero uno quindi voi siete tutto con tutte le vostre famiglie meravigliose amici appassionati un grande grazie con tutto il mio cuore di esistere così non mi dimentico nessuno adesso parto con una persona speciale Francesco Marchiori da Verona un amico una persona un uomo dal cuore grande pensate mi segui in ogni mia ripresa Francesco sei davvero super fantastico sono orgoglioso di te con tutta la tua famiglia meravigliosa Francesco Marchiori da Verona con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche grazie di tutto Francesco sei un grande da Teolo adesso saluto Davis Consalvan da Alessandria un amico una persona super speciale numero uno con tutta la tua famiglia meravigliosa Davis con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre in ogni mia ripresa sei un grande lui Davis Consalvan da Alessandria con la passione della bici nel sangue come me buoni viaggi con la bici spero che stai bene e grazie per seguirmi sei un grande adesso saluto Massimo un amico una persona super speciale numero uno con tutta la tua famiglia con tutto il mio cuore un grande grazie Massimo di esistere e grazie per seguirmi nelle mie riprese panoramiche adesso saluto Daniele Pavane un amico una persona un uomo super speciale numero uno abbiamo condiviso tantissime riprese assieme lui fa delle foto bellissime andatelo a vedere a vedere su Facebook Denis Pavane dovrebbe essere e su Youtube che fa dei video altrettanto bellissimi grazie Daniele con tutta la tua famiglia meravigliosa un grande grazie di esistere e di seguirmi sei un grande adesso saluto Angela Birba del fan club del Veneto che sostengono il mitico Pietro Galassi sul ballo Ulisse una voce melodica unica un artista completo fenomenale lo saluto dalla bellissima Liguria con tutta la sua famiglia meravigliosa tutta la sua orchestra numero uno grande Pietro e tutti voi del fan club del Veneto che lo sostenete con la meravigliosa Angela Birba che mi segue in bici e tutti voi con le vostre famiglie meravigliose anche Pietro un grande grazie di esistere e grande Pietro numero uno davvero un grandissimo adesso saluto Renzo Cantarello un amico una persona super speciale numero uno con tutta la tua famiglia meravigliosa con tutto il mio cuore Renzo Cantarello un grande grazie di esistere e di seguirmi adesso saluto Mirka Martini da Monsedice una donna un'amica super speciale numero uno con tutta la tua famiglia meravigliosa con tutto il mio cuore Mirka un grande grazie di esistere e di seguirmi Ilaria Scaffali un'amica una donna super speciale numero uno con tutta la tua famiglia meravigliosa Filippo Collinari con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi Filippo che conosce Giuliano Calore suo fans Giuliano unico al mondo il re del ciclismo estremo 13 Guinness World Record premiato a Berlino con la medaglia d'oro cito un'impresa impossibile e memorabile la scalata del passo dello Stelvio 40 anni fa sotto vento e pioggia senza manubrio con la gamba destra solo pensate incredibile però il tempo un'ora e 36 minuti spaventoso è come la scalata del passo dello Stelvio cronometro in un'ora e 17 minuti ha fatto meglio senza manubrio è lui sempre ha fatto meglio De Bernardino 5 giri di Francia 3 giri d'Italia tutte classiche possibili campionato del mondo uno tra i quattro più grandi del mondo pensate non aveva grande equilibrismo grande coraggio aveva una grande potenza Giuliano senza il manubrio 2 minuti e 14 secondi di meno di Bernardino anche se aveva 100 km via le spalle in quel giro lì che aveva vinto Giuliano è incredibile saluto ancora Filippo tutti i suoi amici del Fermi il cielo scientifico di Padua Prato della Valle ancora Giuliano grandissimo che l'altro giorno il 17 siamo andati a riprenderlo al Bo che è stato premiato come eccellente finalmente se lo meritava anche se sono arrivati in ritardo però non è mai troppo tardi Giuliano l'unico di l'impresa nel mondo impossibile come lui come la dissa di nota del passo dello stevio a 77 anni e mezzo pensate senza manubrio e freni incredibile ero lì presente io con i miei occhi non possono credere quello che hanno visto quella notte incredibile c'era un vento che tirava il cielo era volto dalle tenebre non volevano farlo partire ma lui ha detto lo voglio fare era due giorni che pioveva ormai non ce la faceva più il vento è nemico numero uno ha detto a quelli del film perché le facevano il film non state a preoccuparvi se mi va via che vedo butto via la bicicletta faccio un salto mortale ritorno in strada a 77 anni e mezzo Giuliano è incredibile mai nessuno riuscirà a ugualiare un suo record il padovano dalle imprese impossibili eroiche il marziano l'estraterrestre non si può più che aggettivi dirgli un grandissimo unico in tutto il mondo a Tanwai ha fatto sballordire i giapponesi è incredibile i cinesi quelli che sono giapponesi è incredibile lui lui è proprio nella storia nella storia e lo resterà per sempre ciao Giuliano ciao Filippo adesso saluto Mauro, Tonio, Anna, Riccardo Titi, Ales Montanaro siete in tantissimi mi dimentico sempre qualcuno Antonio il dottore da Scaffati e quelli che mi dimentico mi dispiace però all'inizio ho detto che ho salutato tutti tutti voi con tutto il mio cuore con tutte le vostre famiglie meravigliose un grande grazie di esistere di essere super speciali in numero di uno un bacione da Teolo dal filmador Renato Zillio e ripartiamo beviamo un goccio bella sta chiesa dai bella veramente questa chiesa un po' Sì, sì, sì. Adesso andiamo a Rovolong, un'altra meraviglia di Colli Ugani, abbiamo fatto da Torelli a Castelnuovo, teologo, vi ho salutato, e adesso andiamo a Rovolong. Sì, sì. 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 Guardate sta fila di olivi meravigliosa guardate. Sì. Sì. Laela. Sì. IassGyasa. Sì. 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 nsì Sì. Sì. Grazie a tutti. Lasciamo il territorio di Teolo e entriamo su quello di Rovolon. Grazie a tutti. 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 Questa è la chiesa. Noi ripartiamo perché fa un po' di freddo e l'ora vi ho già salutato tutti. Noi ripartiamo. Oh. Noi ripartiamo. 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 Grazie a tutti 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 Sto entrando a Bastia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Alla mia sinistra la chiesa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vedete che meravigliosi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti